Siamo col professor Domenico Cuda che ha appena moderato una tavola rotonda sull'impiantologia cocleare nell'età pediatrica. Eravate a confronto tra i massimi esperti italiani sul tema, quindi sono stati discorsi molti casi clinici. Quali sono i punti emersi e dove sta andando l'implantologia pediatrica? L'implantologia pediatrica, intanto cominciamo col dire che ha dato dei risultati veramente eccellenti, ha dato dei risultati veramente eccellenti e l'esperienza dei gruppi italiani è di assoluto buon livello. I bambini ritornano ad avere uno sviluppo cognitivo, linguistico assolutamente favorevole, possono essere davvero inclusi tra i loro pari e quindi avere davvero una maturazione, uno sviluppo completo. Ecco, tuttavia esistono dei casi controversi, controversi per le indicazioni, per le tempistiche, per le soluzioni chirurgiche più appoglienti. Quindi si tratta di situazioni dove ho per precocità e quindi incertezza di alcuni aspetti della diagnosi, oppure per malformazione dell'orecchio interno, ecco ci sono aspetti oggetto di controversia. Ecco, naturalmente tra voi colleghi ci sono livelli diversi anche di esperienza, come dimostrano anche i centri di vario livello sull'implantologia. Come pensa che dal punto di vista professionale queste informazioni possano arrivare ad esempio anche ai giovani che si stanno formando? Beh, certamente la partecipazione a eventi come questo, per esempio come tavole rotonde interattive, in cui c'è il coinvolgimento della audience, si sentono diversi pareri tra esperti su una stessa situazione clinica. Anche è interessante il fatto che, per esempio, in lo stesso caso si possano prendere decisioni anche diverse da parte di colleghi molto in grande esperienza. È un dato che aiuta molto anche nella crescita dei giovani, che tuttavia devono passare per un percorso di formazione di base che è assolutamente imprescindibile, quello dello studio dell'audiologia, le tecniche di base della chirurgia che vengono eseguite nell'università e nella formazione post-università. Ecco, dal punto di vista della prevalenza di questi casi rispetto alla maggior parte dei bambini affetti da sordità, di che cosa parliamo in percentuale? Diciamo che ogni millenati ci attendiamo circa un bambino affetto da sordità profonda bilaterale. Nello stesso tempo ci attendiamo anche alla presenza di un bambino con una sordità profonda mono-bilaterale. Vi è poi un numero maggiore di casi che è portatore di forme di cocosia più lievi, bilaterali, che però costituiscono, hanno un impatto minore culturalmente, sia sullo sviluppo del linguaggio che sulle decisioni da prendere. perché le decisioni da prendere nel caso di una deprivazione emotiva bilaterale profonda sono molto importanti e vanno prese in tempi davvero ristretti. Ecco perché si sono diffusi, fortunatamente l'Italia è coperta in buona parte, gli screening uditivi universali, la soledà che vengono fatti nel nido praticamente, subito dopo la nascita. Le perdite uditivi poi in realtà non è che finiscano lì, perché nel corso dello sviluppo dei primi anni di vita addirittura raddoppiano. Questo per l'insorgenza di cause diverse, che possono portare a sordità, pensiamo alle malattie virali, oppure anche per effetto di malattie genetiche che si esprimono più tardivamente dando delle forme ingravescenti. Oppure per esempio per il citomegalovirus, che è un problema emergente, cioè l'infezione, la sordità causata da un citomegalovirus contratto durante la gravidanza, e così può sviluppare in maniera progressiva una sordità nei primi mesi, nei primi anni di vita. Quindi ci sono dei casi che, il fatto che abbiano superato lo screening universale della sordità, non significa che si debba allentare la sorveglianza audiologica su questi bambini. In ogni caso per tutti questi casi, si prevede un impianto cocleare più che non una protesizzazione per la crescita, per lo sviluppo della crescita? Il passaggio attraverso l'amplificazione acustica direi che è ormai ben accettato in tutti i casi, questo dà tempo di fare una stimolazione anche se rudimentale in alcuni casi, in altri casi magari più efficace del bambino e di aver modo di studiare bene l'evoluzione e l'acquisizione dell'immagine. Certamente i casi più gravi non avranno benefici apprezzabili, quindi saranno avviati all'impianto. Grazie professore, buon lavoro. Grazie a lei.